E nella grande tradizione del giallo horror italiano ci sono dei nomi che tutti ricordano, che sono i nomi soprattutto di Dario Argento ma anche di Mario Bava o di Riccardo Freda o di Antonio Margheriti e poi ci sono degli altri personaggi che hanno frequentato solo episodicamente l'horror però lasciando decisamente il segno, la traccia del loro passaggio. Uno di questi è Pupi Avati, pensate, ma non è solo lui che ha dietro uno dei film di maggiore successo è anche uno degli horror italiani più belli della storia. Siamo nel 77, questo film si chiama La casa dalle finestre che ridono, è un film che fa veramente paura ma è un film molto realista anche se completamente incredibile nella sua vicenda come vedrete voi stessi è un film che vanta un cast e una troupe molto strana, ad esempio lo sceneggiatore del film Maurizio Costanzo il famoso conduttore televisivo che qualche esperimento al cinema l'ha fatto non solo nel cinema ma anche nelle canzonette perché se telefonando, che è una delle più famose canzoni di Mina, porta proprio le parole di Maurizio Costanzo. Poi la ragazza del film è Francesca Marciano, poi successivamente anche regista e poi ultimamente sceneggiatore di tantissimi film, di Carlo Verdone ma anche di altri ancora. dentro il film c'è invece poi tutti gli attori preferiti da Pupiavati, c'è Gianni Cavina, c'è Bob Tonelli ci sono una serie di personaggi che ricorrono spesso nel suo cinema e anche il film è un po' una storia alla Pupiavati perché è una storia nella bassa padana, una storia che ha una provincia un po' segreta solo che il cotè segreto di questa provincia è decisamente horror, il pittore Buonolegnani che è il protagonista del film e questo nome è bellissimo, Buonolegnani sembra veramente un pittore rinascimentale ma non esiste assolutamente nessuna traccia della sua vera esistenza è un personaggio anche se appare pochissimo nel film che potrebbe essere un personaggio della Pupiavati ossessinato da una famiglia oppressiva che si ribella a questa e come vedrete lascerà una traccia piuttosto grossa nel paese in cui è vissuto, insomma tutto questo è il cinema di Pupiavati in versione horror e forse proprio per questo funziona bene il suo bozzettismo, il suo raccontare piccole storie di campagna si adatta molto bene a un'atmosfera gotica che però non è quella dei castelli all'inglese ma è quella della bassa padana, la casa delle finestre che ridono